a tutti i presenti buonasera a tutti e grazie soprattutto ai nostri ospiti stasera parleremo di america contemporanea grazie a questo bellissimo libro posso dire una cosa pur essendo io una letterata quindi non una storica dell'america e dell'america contemporanea questo libro è scritto benissimo grazie e si legge con un enorme piacere e mi verrebbe dire anche un'altra cosa insomma è il giornalismo che si faceva una volta quindi sul d'inchiesta ma in loco insomma ora mi pare che si faccia più per telefono quindi e si sente la differenza di chi è andato appunto a intervistare a vedere a conoscere rispetto appunto a altre modalità diciamo della scrittura giornalistica quindi grazie a Giovanna Pancheri che è la nostra ospite insieme al professor Mario Del Pero che è in collegamento come si dice da Parigi perché insegna storia internazionale storia della politica estera all'Istituto d'Etudes Politiques Sciences Po a Parigi vi segnalo gli ultimi due libri suoi uno dedicato a Obama appunto era Obama uscito da Feltrinelli nel 2017 e un altro uscito eh nello stesso anno Libertà e Impero gli Stati Uniti e il mondo mille settecentosettantasei duemila e sedici ehm segnalo inoltre un seguitissimo blog molto interessante molto seguito su italiani europei il professor Marcello Flores d'Arcais è insomma un notissimo storico e studioso dei genocidi e dei totalitarismi ha scritto sulla rivoluzione russa sul genocidio degli ermenni e più recentemente sulla resistenza gli ultimi libri suoi sono cattiva memoria perché è difficile fare i conti con la storia titolo mi permetta professore che mi sembra magnifico mi sembra proprio che metta a fuoco un problema particolarmente eh italiano e eh ancora appena uscito eh questo libro il libro sulla sulla cattiva memoria è uscito dal mulino nel duemila e venti mentre questo appena uscito eh è scritto insieme a Giovanni Gozzini il vento della rivoluzione la nascita del partito comunista italiano anche perché quest'anno è il centenario eh Giovanna Pancheri eh nota appunto come giornalista inviata dagli Sky TG ventiquattro è stata corrispondente da Bruxelles ha lavorato anche a Parigi e di lei segnalo un titolo uscito nel duemiladiciassette appunto il buio su Parigi a proposito di eh insomma dei notissimi attentati a a Charlie Hebdo e al Bataclan il nostro amico se così posso chiamarlo Marco Vigevani è eh noto a già noto a molti di voi perché recentemente abbiamo fatto un incontro e lui era presente come direttore del memoriale mh della della memoria di Milano ma come tutti sapete è anche un notissimo agente letterario ecco data snocciolata la bibliografia perché è consuetudine che si esca da qua con altri titoli eh diciamo da andare a leggere dei nostri ospiti ringrazio ai nostri ospiti e lasciamo volentieri la eh parola a Marco Vigevani che gestirà l'incontro modererà l'incontro vai Marco e grazie grazie Laura grazie al circolo dei lettori che ci ospite a tutti i nostri e i nostri invitati e partecipanti eh come già diceva Laura questo è un libro ricchissimo è un libro che non si limita a darci una fotografia della eh dell'America di oggi ma eh che secondo me durerà nel tempo perché racconta dei movimenti profondi della società americana degli americani in tutti i suoi aspetti eh sanità economia lavoro immigrazione razzismo sicurezza ambiente esteri Washington sembra il programma di Mario Draghi che non abbiamo ancora avuto il piacere di sentire però invece è l'indice di questo libro quindi potete immaginare la ricchezza di argomenti su cui eh diciamo possiamo ehm interrogare i nostri ospiti eh e anche la eh la nostra autrice in primo luogo mh direi questo chiederei una cosa a a Giovanna Pancheri poi eh passiamo ai ai nostri altri due ospiti cioè ehm il titolo di lavoro di questo libro era alla ricerca della felicità ecco eh perché e perché eh che significato aveva naturalmente in relazione alla costituzione americana e ti chiederei eh come insomma è nata un po' l'idea di questo libro dalla tua lunga esperienza anche di eh corrispondente. Allora guarda l'idea di questo libro eh lo dico nei ringraziamenti Marco quindi a questo punto scopriamo le carte. L'idea di questo libro in realtà nasce diciamo già nel 2016 quando io ero appena arrivata da poco negli Stati Uniti ho seguito anche l'inauguration di Trump ovviamente e il i momenti della convention che hanno portato poi all'ascesa del presidente Trump e eh devo dire che già i momenti dell'inaugurazione mi avevano mh colpito molto perché c'era veramente l'impressione di trovarsi di fronte comunque a qualcosa di completamente nuovo per il panorama politico americano. Poi poco dopo in quel periodo comunque eh incontrai Marco a New York per dire rivelo un segreto che non è un segreto perché appunto ho scritto dei ringraziamenti e chiacchierando con lui di tante cose lui mi disse ma tu devi pensare a un libro sull'America e diciamo quella cosa rimase lì al momento poi però cosa succede che nel momento in cui vinse Trump eh io ho preso una decisione con la mia redazione. La presidenza Trump non si poteva seguire da New York perché la nostra sede è New York però se si voleva raccontare veramente all'Italia che cosa voleva dire questa presidenza bisognava viaggiare bisognava andare in giro per l'America. L'ho fatto tantissimo per Sky e da lì in questi viaggi conoscendo queste realtà avendo la possibilità di incontrare se vogliamo anche quegli americani che lo avevano veramente portato alla Casa Bianca e che da lui si aspettavano delle risposte che da lui si aspettavano un senso di rinascita che da lui si aspettavano quella felicità che viene garantita diciamo nella eh dichiarazione di dipendenza a quel punto ho detto ok è vero ci si può e ci si deve lavorare perché questa presidenza comunque vada comunque finisco ovviamente il libro eh insomma ha un lavoro che che preso più di due anni quindi eh non potevamo immaginare che questo sarebbe stato l'unico mandato di Trump ovviamente eh quando abbiamo iniziato a ragionare sul libro c'era l'ipotesi che poi ce ne potesse essere un secondo però l'idea di fondo era che eh sicuramente sarebbe stato questo primo mandato qualcosa che avrebbe cambiato anche la percezione degli Stati Uniti la percezione del ruolo stesso della presidenza avrebbe cambiato una serie di parametri ulteriormente della politica americana e quindi mh c'era appunto secondo me il bisogno di raccontarla con la voce degli americani stessi in più come come Marco sa bene c'era un'idea iniziale di uscita prima delle elezioni che invece abbiamo deciso proprio di non portare avanti perché non volevamo che fosse un instant book e credo che questo sia anche un altro se vogliamo dei segreti di questo libro che arriva veramente fino agli sgoscio insomma fino a quello che è successo anche subito dopo le elezioni e quindi da un quadro totale non soltanto degli eventi ma anche della persona stessa del tipo di leader che ha eh che è stato in America per questi quattro anni l'idea iniziale del titolo eh la ricerca della felicità era appunto perché è un una delle 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 pagine più belle se vogliamo dei dei testi eh che hanno su cui si è fondata la democrazia stessa americana tra l'altro con un po' d'Italia perché si racconta che l'ispirazione venne addirittura da filangeri ehm ma ehm poi lavorando a questo libro soprattutto dopo quest'ultimo anno che è stato un anno anche molto complicato un anno in cui la pandemia ha rimescolato tantissimo le carte come infatti abbiamo ho cercato di far percepire lungo tutto il corso del libro abbiamo riflettuto su un articolo su un titolo eh poi differente eh e eh che non deve però essere diciamo confuso con l'idea che siccome ha vinto Biden adesso ci troviamo di fronte ad una rinascita americana ehm in parte l'ispirazione nasce infatti e lo spiego anche nel primo capitolo sia da eh quell'inauguration dove tutte le persone che avevano votato e che credevano in Trump pensavano veramente di fronte ad una rivoluzione ad una possibilità di rinascita con quel presidente sia a eh una eh delle pagine forse più più significative della storia americana pare a dire la battaglia di Gettysburg dove nel discorso finale uno degli scorsi più famosi tuttora eh a livello politico il presidente Abramo Lincoln invece di fare un discorso da da vittorioso da vincitore come avrebbe potuto fare insomma dopo quella 40 battaglia in cui gli unionisti vinsero decise di fare un appello all'unità e alla necessità di una rinascita di libertà e quindi insomma da qui poi eh siamo arrivati a quest'altro tipo di di titolo perché una idea di fondo che c'è in questo libro che mi sono fatta io insomma girando l'America in questi quattro anni è che chiunque arrivi eh dopo Trump o in generale se si vuole veramente ripensare a questo paese sollevarlo dalle difficoltà in cui si è trovato in particolare in quest'ultimo anno c'è bisogno di parlare un po' a tutti e di non dimenticarsi di quelle parti d'America che comunque alla fine votano e cambiano gli esiti della storia. Grazie mille Giovanna. Io adesso chiederei una una loro breve lettura di questo libro nel senso una loro interpretazione prima al professor Del Pero grande esperto di storia americana e poi al professor Flores eh che eh invece ha uno sguardo sulle relazioni internazionali e anche sul fatto direi che eh Trump è stato visto eh da molti come un protettore e un instigatore dei sovranismi e invece ora Biden viene visto come un garante eh di un nuovo di un nuovo scenario eh insomma più improntato alla collaborazione. Allora professor Del Pero chiederei a lei eh in quanto appunto conoscitore della realtà americana e della storia americana di darci una breve lettura di questo libro dal suo punto di vista ecco. Eh grazie eh grazie per l'invito. No io ho letto un interesse e piacere il libro di Giovanna Pancheri e per come è costruito tutti i vari pezzi del mosaico sono un modo almeno io così l'ho letto un tentativo di rispondere al perché Trump come si spiega l'elezione di Trump e la si spiega e su questo da storico di quello apprezzato molto senza cercare scorciatoie monocausali alla fine ogni capitolo mette lì un pezzo dell'equazione un pezzo del mosaico una variabile diciamo così eh dalla sicurezza economica e sociale la questione dell'immigrazione alla questione della razza sono tutte eh discusse sono discusse un elemento narrativo che a me è di America insomma dall'agricoltore 2.0 dell'Iowa alla dreamer del Queen all'insegnante responsabile del distretto scolastico del Kansas a fino per arrivare al pastore Rob no al pastore suprematista e allora ne emerge una forte umanità ed emerge un elemento che io da io ho vissuto negli Stati Uniti da ragazzo nell'America profonda ho vissuto in Indiana la ricerca mi ha spinto a passare anche in tempi recenti molto tempo in Kansas o in Texas e in pezzi di Texas che non sono quello diciamo così integrato nel mondo da Austin a San Antonio a Houston ma sono stato passato due settimane recentemente prima della pandemia in un in un college evangelico ad Abilene a lavorare in archivio lì ed è un'America profonda che a chi la incontra colpisce per tanti elementi diversi e credo che uno di questi elementi e io l'ho ritrovato in molte delle testimonianze utilizzate in questo libro uno di questi elementi è la l'umana generosità e allora come la lì come dire il dilemma si fa po si fa forti come può un'America così generosa in ultimo in una generosità che poi a noi che la incontriamo capita di viverla no in mille momenti un'America così generosa si affida a Trump è una domanda come dire non banale e non scontata è una domanda su cui voglio dire noi studiosi ci interroghiamo e presumibilmente ci interrogheremo a lungo e auspicabilmente lo dico ci interrogheremo perché quella storia è stata archiviata non sono sicuro che quella storia sarà archiviata a tempi brevi e qui come dire forse una domanda per Giovanna che rimanda anche a un paio di conversazioni che io e lei abbiamo già avuto e nella quale ho avuto l'impressione che lei sia più ottimista di me sulla possibilità di archiviarla e superarla sulla possibilità di ricostruire un'unità andata andata a pezzi mi chiedo a volte eh se eh il fatto che facciamo dei mestieri differenti ci induce a dare risposte differenti perché attraversarla quell'America passarci questi quattro anni come hai fatto tu confrontandoti con quell'America scoprendone l'umanità per l'appunto e quasi tutte le figure che descrivi a parte il pastore Rob di umanità ne hanno ne hanno molta e ne offrono molta ecco forse che induce a essere più ottimisti di chi tende ad analizzare più i dati crudi e nudi no delle dinamiche di frammentazione di polarizzazione di scontro e eh di delegittimazione che sembrano eh caratterizzare eh questa America eh dicevo eh a me è piaciuto molto questo elemento e mi ha portato appunto a interrogarmi sul perché dalle precedenti conversazioni la mia impressione è stata che alla rinascita eh eh Giovanna eh una rinascita che passa attraverso la ricomposizione di certi elementi di questa frattura a riportarlo dentro a riportarla dentro i binari della normale dialettica democratica ecco alla possibilità di farlo ho l'impressione e Giovanna creda più di me un ultimo punto e poi e poi finisco riguardo alla questione della felicità il diritto alla felicità no la pursuit of happiness eh diceva Giovanna no un pezzo molto bello di un documento molto bello nella sua anche nella sua ritmicità nella sua musicalità no che è la dichiarazione di indipendenza ecco Trump non sorride non sorride mai eh Trump alla felicità voglio dire la felicità probabilmente il suo è il suo IBAN alla felicità non credo non crede e non promette la felicità promette la grandezza ha promesso la grandezza dentro un mondo ostile e cupo c'è una ricordate tutti il discorso di insediamento del 2017 no la carneficina il carnage a cui fece riferimento e su quello più che ancora su altri che su altri elementi di politica spicciola dove Trump è stato per tanti aspetti un repubblicano conservatore molto ortodosso per come questa ortodossia è stata definita nell'ultimo mezzo secolo su quello credo abbiamo avuto una rottura di narrazioni e di rappresentazioni fortissime eh un'uscita anche da alcuni elementi da alcuni topo e del del nazio dell'eccezionalismo americano da alcuni elementi proprio intrinsechi all'ideologia di un certo nazionalismo statunitense non prometteva felicità non prometteva una naturale convergenza diciamo tra valori principi ideali americani e quelli dell'umanità che sta dentro diciamo così la traiettoria del nazionalismo americano ma prometteva di vincere dentro un'arena brutale aspra in cui la vittoria americana comportava a gioco forza la sconfitta di altri quello credo sia stato e sia questo nazionalismo non eccezionalista mi verrebbe voglia di dire per semplificare con uno slogan sia stato forse un elemento davvero di rottura radicale dell'epoca trampiana che per noi studiosi che per tanti anni abbiamo scritto e detto che il nazionalismo americano ha un'intrinseca ambizione universalistica che porta sempre con sé quello è un altro elemento che ci porterà a interrogarci e su cui dovremo riflettere grazie non dobbiamo essere migliori diceva gli americani dobbiamo essere più forti più forti devo dire prima di dare la parola al professor flores che la il nome di abilin mi ha riempito di ricordi come appassionato di western perché è il posto dove tutti i mandriani nei film western portano le mandrie non so se a vendere ci sono due abilini in realtà uno è abilin cansa se l'altro abilin cansa se anche il luogo dove è nato il presidente eisenhower dove si trova l'archivio della presidenza eisenhower in tutta franchezza abilin cansa sembra san gimignano rispetto ad abilin cansa un posto di una bruttezza difficile a credere va bene e allora che marcello flores intanto grazie per l'invito e volevo fare i complimenti a giovanna pancheri per per il suo libro o perché anche se è ovviamente un libro da giornalista che quindi ci racconta la cronaca di questi ultimi anni ma è una cronaca che interroga la storia e siccome noi storici sappiamo che il modo in cui noi chiediamo al passato di darci delle informazioni e dell'umidipende dal modo in cui comprendiamo e vogliamo comprendere il presente è un libro che in realtà pone più domande e ci fa capire come sarebbe bello andare avanti perché tutti te sono quei diversi capitoli ognuno dei quali come diceva mario è un pezzo del mosaico complessivo quindi non una non un racconto monocausale delle vicende vicenda di trump tutti quei capitoli in realtà rimandano praticamente tutti alla storia degli stati uniti e al modo in cui in diversi momenti questa storia ha trovato dei punti di rottura di crisi e poi anche di ovviamente di rinascita io la prima volta che sono stato negli stati uniti per un anno sono arrivato un mese prima che venisse eletto reagan presidente e ricordo come le elezioni di reagan fu soprattutto per tutta una parte della popolazione una rottura abbastanza significativa eppure rivedendola a confronto con quella di trump era niente sostanzialmente era una bella passeggiata di un vecchio nonno tutto sommato un po burbero ma anche paternalista e credo che la capacità che giovanna ha messo nei suoi racconti e nel far tirar fuori dai personaggi che interrogava non tanto trump perché quello lo si era conosciuto abbastanza ma proprio il modo più sincero e anche positivo tra virgolette eh con cui i suoi adepti i suoi sostenitori e i suoi lettori lo hanno lo hanno seguito e allora eh viene fuori che in realtà eh un successo forse il successo maggiore che trump ha avuto è stato quello di re ideologizzare le disuguaglianze eh riuscendo quindi a raccontarle in eh un altro modo eh disuguaglianze che erano cresciute prima e che poi eh crescono ancora di più eh nei suoi anni ma che invece vengono o ripresentate eh da una parte di nuovo come eh un mondo che rischia di eh sfociare nel socialismo la paura del socialismo che è qualcosa eh che che a noi fa sorridere perché ci sembra ma chi può credere davvero alla paura del socialismo però poi ci ricordiamo anche la paura del comunismo quando Berlusconi stravinse più volte le elezioni in Italia che sono anche da questo punto di vista delle eh eh somiglianze di una capacità cioè di eh interpretare eh gli umori esagerando in una comunicazione perché si sa che comunque può funzionare anche se al di fuori eh della eh della realtà eh e voglio toccare brevemente due punti uno è quello della dimensione internazionale eh qui c'è quell'elemento di rottura che Mario vedeva in generale nella eh presidenza Trump eh perché è vero che eh i repubblicani eh sono sempre stati eh isolazionisti nazionalisti però qui c'è stato un isolazionismo e un nazionalismo che era poi intrecciato anche eh per esempio a eh flirtare con la Russia di Putin a eh giocare eh nei modi che abbiamo visto apparentemente contraddittori addirittura con la Corea del Nord eh nel l'unico è con la Cina in cui eh effettivamente si capiva eh che Trump aveva una sorta di timore reverenziale riconoscendolo un eh potere in ascesa ma soprattutto un potere che poteva essere guidato davvero come lui avrebbe voluto guidare gli Stati Uniti cioè con un pugno di ferro e in modo eh assolutamente quasi eh dittatoriale e questo è qualche cosa che credo eh ha lasciato soprattutto eh un po' di eh macerie nel campo repubblicano perché forse eh la presidenza Biden avrà più facilità proprio nella politica estera pur con tutti i problemi che avrà di fronte a eh rimettere un po' eh incarreggiata eh la strategia degli Stati Stati Uniti. L'altro punto è quello che eh viene riproposto nel libro di Giovanna Pancheri in eh nel capitolo eh se non ricordo male che è quello che riguarda il razzismo cioè questo uso continuo che viene fatto eh da i eh suprematisti bianchi di timore di un genocidio nei confronti della razza bianca eh che è un altro eh degli aspetti che ci sembra eh una eh falsità talmente palese che eh bisognerebbe solo ridere a chi eh la suggerisce ma che invece ha eh una eh profondità e non solo negli Stati Uniti bisogna dire perché se vediamo eh come anche eh ci siano in Italia per esempio eh delle eh eh suggestioni per fortuna di piccola minoranza quindi non dei milioni di voti che eh hanno letto Trump che dicono che il nostro risorgimento è stato il genocidio del del popolo meridionale e beh eh si capisce che eh è una modalità poi di eh propaganda che utilizza un termine come quello del genocidio per farne eh una sorta di eh neo vittimismo eh e che a me ha ricordato soprattutto eh il discorso che fece nel millenovecentottantanove eh Slobodan Milosevic eh in Kosovo eh quando cioè eh ricordando la battaglia di eh seicento anni prima la battaglia del Kosovo la battaglia del campo dei Merli dove la Serbia era stata sconfitta eh dai turchi e dice qui c'è un altro genocidio come quello che riuscimmo a evitare ma che eravamo sull'orlo di subire eh secoli eh secoli fa e sull'onda di quella eh essere vittime di un possibile genocidio poi sappiamo eh come Milosevic eh ne abbia invece messo in atto eh uno durante le guerre eh jugoslave ecco questa capacità di esagerazione di eh Trump che è riuscita a trovare sempre un eh un riscontro eh in una larga parte dell'elettorato ecco io adesso conosco molto poco gli Stati Uniti ci vado ogni tanto ma raramente e quindi eh chiederei proprio a Giovanna questa eh risposta eh alle cose più esagerate e assurde che è sempre stata ampia è qualcosa che eh è destinata a a rientrare rapidamente come sembra un po' di capire eh non so se con speranza o solo anche per analisi in un alveo più normale o invece eh il pessimismo maggiore che nutriva Mario del Pero ha qualche eh possibilità speriamo di no ma insomma di verificarsi. Sì e dice eh Marcello parlava di genocidio oggi molti di questi dell'estrema destra usano anche l'eufemismo di sostituzione etnica no? Che è ecco che è orribile qua è quasi quasi come genocidio nel senso che nasconde poi questa ehm venendo adesso a Giovanna eh secondo me ehm rileggendo questo libro con con attenzione si vede anche che è un libro in un certo senso che può ispirare anche l'Italia perché io non pensandoci non conosco un libro in cui eh un giornalista un autore italiano abbia raccontato eh l'Italia eh profondamente e su questi temi cioè si tende anche sempre a fare una condanna ideologica dell'avversario di cui noi siamo specialisti no in Italia piuttosto che a capire eh chi c'è dietro qual è il ehm diciamo il popolo o comunque eh le persone che stanno dietro questo movimento. Quindi questo lo chiederei proprio adesso ehm a Giovanna se vuole naturalmente rispondere alle domande, alle suggestioni che sono state fatte ma anche proprio com'è eh che attraverso i problemi che gli americani si trovano ad affrontare, si sono trovati a affrontare in questi anni, si troveranno ancora ad affrontare, che vanno dalla ehm povertà al 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 confronto eh raziale, alla disoccupazione, alla sanità, eccetera. Veramente qual è eh il il portato che lei ehm ha trovato in questo lungo viaggio attraverso l'America? Beh, anzitutto Marco praticamente cioè mi stai dando l'idea per il prossimo libro che sono tornata in Italia. Esatto! Esatto! Senti, a parte questo eh volevo vi è grazie ovviamente sia al professor Flores D'Arcais che a Mario Del Piero anche per questa lettura così attenta del mio lavoro e mi hai ricordato quella che per me è una delle definizioni più belle che sia mai stata data del giornalismo che è di Umberto Eco che diceva che i giornalisti sono gli storici del presente eh ovviamente è un'ambizione insomma provare a farlo dato che la mia grande ammirazione, il mio grande rispetto perché invece appunto fa il mestiere dello storico che ehm penso che sia fondamentale perché è proprio importantissimo per capire poi quello che sarà il nostro futuro anche per analizzare meglio il nostro presente però è un po' eh se vogliamo la definizione che mi ha sempre ispirato quindi eh sono contenta che lui in queste pagine abbia in qualche modo ritrovato anche questo cioè un giornalismo che che cerca di 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 mettere eh nel presente nero su bianco situazioni e vicende che poi eh diventeranno storia. Eh per quanto riguarda eh Mario Del Piero ovvero ci siamo trovati spesso diciamo a a dibattere su questo eh partendo dal fatto che io sì di natura sono un ottimista no? Alec Ross dice che gli ottimisti cambieranno il mondo io sono d'accordo su questa definizione me la me la me la canto e me la sono così perché sono più ottimista di natura che che pessimista eh però eh è anche vero che diciamo la mia verutazione se vogliamo un po' più ottimista da questo punto di vista se se come ottimista vogliamo intendere il fatto che che sia diciamo complicato un immediato ritorno a quel tipo di trampismo nasce proprio dall'osservazione dell'ultimo anno negli Stati Uniti perché io ho trovato un'America molto stanca Mario veramente persone che sono mh dopo questo anno così provante da un punto di vista sanitario da un punto di vista economico da un punto di vista sociale e una campagna elettorale così corrosiva così divisiva ecco io non credo che sia un caso che abbia vinto anche un personaggio come Biden che certo non è diciamo l'oratore che è Trump o che poteva essere Obama no bisogna riconoscere che insomma è è un tipo di possibilità completamente diversa ma che cosa ha? Ha una personalità e un modo di porsi profondamente rassicurante io ho questa impressione gli americani sono stanchi diciamo di tutto questo confronto costante tanto è vero che Trump come sai ha lasciato la casa bianca con il suo tasso di popolarità più basso di sempre soltanto il 30 per cento e non soltanto questo in questi giorni in cui si sta discutendo insomma si è appena concluso il processo di impeachment però si continua anche ovviamente a parlare adesso si arriverà anche al voto del nuovo pacchetto di aiuti che Biden vuole proporre parliamo di un pacchetto da 1900 miliardi un pacchetto che se fossimo diciamo nella normalità dovrebbe anche avere molte critiche molti ostacoli magari dall'opinione pubblica repubblicana piuttosto che beh questo pacchetto al momento viene visto come sufficiente se non addirittura troppo ristretto da quasi il 75 per cento degli americani e dal 63 per cento dei rettori repubblicani e un dialogo alla fine a livello proprio di parti politiche in congresso è più che in atto proprio perché c'è questa necessità in un momento così difficile in cui il paese si trova talmente in ginocchio da tanti punti di vista di cercare come dire delle soluzioni che siano comuni e unitarie perché poi alla fine purtroppo il disagio la disuguaglianza la malattia colpisce il conservatore come colpisce il liberale e quindi in questi grandi momenti di crisi alla fine la resilienza la forza la volontà di reagire la necessità di trovare soluzioni secondo me supera un po' questo tipo di 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 assi e di distanza politica No no scusami ti ho interrotto no dicevo quindi Giovanna tu pensi che diciamo il il ci sia una possibilità di lavoro bipartisan anche se soltanto ieri solo sette senatori repubblicani su non so quanti cento novanta no infatti sono cinquanta hanno votato cinquanta hanno votato per per l'impeachment di trump cioè pensi che le due cose non non si corrispondano no non c'è non non si corrispondono perché quella è un'altra cosa il problema dell'impeachment di trump è un problema interno al partito alla loro stessa sopravvivenza repubblicani si devono fare un esame di coscienza interna e capire veramente che cosa vogliono diciamo diventare in queste ultime elezioni sono stati letti molti candidati soprattutto la camera profondamente diciamo della corrente va tanto di moda questa parola in italia nelle ultime ore quindi della corrente trampiana utilizziamola anche per gli stati uniti eh proprio perché ovviamente era lui presidente quindi insomma li ha portati avanti poi anche nelle primarie per cui ha una compagine eh a livello di di parlamento molto importante anche dentro al partito quindi io credo che quello è un discorso più legato al partito ma lo stesso Mitch McConnell leader incredibile mefistofelico bravissimo dei repubblicani al senato e che inizialmente sembrava volesse votare a favore poi alla fine ha votato contro però ha fatto un discorso durissimo contro trump riconoscendone tutte le responsabilità e qui vado mi leggo all'ultima cosa che volevo dire per rispondere sempre a questa domanda perché penso che comunque questa parte quest'anima un po' più nera ad america sia destinata non per sempre ma per un certo periodo di tempo ad essere più marginalizzata che invece diciamo a venire di nuovo fuori perché credo che i fatti del 6 gennaio abbiano veramente rappresentato diciamo un punto di svolta importante un punto di svolta anche per quei repubblicani diciamo meno trampiani che vogliono cercare una una nuova leadership portare il partito verso una nuova direzione dato che quella più estrema che tra l'altro diciamo mormora nel partito da ben prima di Trump comunque è stata portata alla prova dei fatti e non ha dato risultati sperati anzi anzi tutt'altro e su questo io vedo che si può creare un'unione di intenti anche con i democratici come ci è già capitato di commentare proprio con Mario in un dibattito che abbiamo fatto all'ISPI poco dopo i fatti del 6 gennaio eh ad esempio insomma eh Biden non ha mai eh evitato di definire terrorismo interno no? Eh quello che abbiamo visto il 6 gennaio e molti di questi movimenti più estremi che come dicevamo covavano da tempo nell'animo d'America e che ancora si incontrano però in questi ultimi quattro anni sono un po' stati lasciati allo Stato brado senza un vero controllo molto spesso accarezzati dal Presidente stesso e non eh colpevolizzati nonostante gli gli allarmi che c'erano anche da dalle autorità competenti a riguardo ecco questo non accadrà e quindi credo che ci starà eh anche per loro un po' più di difficoltà e l'altra impressione che ho avuto infatti è che da dopo diciamo l'insediamento eh di Biden in generale ci sia proprio un'impressione nel paese di un abbassamento della temperatura anche ovviamente perché eh e qui ritorniamo anche alla domanda che in parte faceva Flores D'Arcais ehm comunque il fatto che Trump non abbia più un mezzo di espressione e di eh cooptazione così immediato come poteva essere quello dei social media ovviamente sta facendo una grande differenza. Ecco eh mi piace questa idea che appunto lo so gli americani eh gli americani arrivano a Biden stanchi e gli italiani arrivano a Draghi pure loro stanchi quindi la stanchezza sembrerebbe quasi un una specie di medicina della democrazia interessante perché chiediamo i nostri storici qualcosa e visto che parliamo del degli estremi io volevo fare questa domanda a tutti a tutti e tre ehm e cioè eh c'è un libro famoso eh di Sinclair Lewis è uscito negli anni trenta che si chiamava It Can't Happen Here non può succedere qui che nonostante il titolo invece preconizzava la possibilità di una dittatura fascista eh in America libro famosissimo eh Paul Krugman se non sbaglio una settimana fa dieci giorni fa eccetera il famoso economista liberale ha scritto invece sul New York Times un articolo in cui diceva let's call it fascismo cioè chiamiamolo fascismo finalmente eh allora tra eh questo Can't Happen Here che è è stato usato eh in maniera opposta all'idea di Sinclair Lewis che poteva invece avvenire eh e quindi l'idea che in in America non possa nascere non potesse nascere un movimento forte fascista che aspirasse al potere e invece un autorevole esponente eh diciamo eh del dei moderati americani come Paul Krugman che dice no questo dobbiamo chiamarlo fascismo e combatterlo come fascismo volevo sentire le vostre opinioni magari eh eh invertendo l'ordine cronologico e visto che è un grande esperto ha frequentato la storia del fascismo e tra l'altro sta preparando un'edizione che aspettiamo di di un grande purtroppo libro del fascismo che è il Mein Kampf possiamo dirlo no Marcello eh 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 edizione critica vorrevo chiedere a voi che cosa ne pensate cominciando dal professor Florester Kais ma eh il dibattito sul fascismo negli Stati Uniti è eh è stato molto diverso che da noi perché una prima impressione che possiamo dire è che dove non c'è stato il fascismo si parla più spesso di eh fascismo nei confronti eh di quelli che noi chiamiamo eh sovranisti eh sovranisti esagerati potremmo eh potremmo dire mentre in Italia e in Germania dove il fascismo c'è stato eh ci sono molte più eh reticenze a eh chiamare eh come fascismo queste queste tendenze eh però per esempio mi sembra un paio d'anni fa eh era uscito nella New York Review un bellissimo eh articolo di uno degli storici che io amo di più Christopher Browning eh che proprio cercava di faceva un confronto tra Trump e Hitler addirittura neanche Mussolini e lo faceva però eh come in realtà fanno i grandi storici che riescono a fare una comparazione vera per mettere in evidenza le differenze eh e quindi certo o riconoscendo eh alcune eh somiglianze ma soprattutto per mettere in evidenza le differenze sia di personalità ma anche di momento storico e quindi del fatto che eh quello che sono stati i fascismi nel periodo tra le due guerre negli anni venti e trenta è qualcosa di assolutamente eh non più proponibile in un mondo che è cambiato drasticamente eh come eh quello che abbiamo adesso eh per tanti motivi eh non ultimo quello che allora eh la eh democrazia di massa era nella sua fase iniziale eh e quindi eh c'era la possibilità per quei regimi eh totalitari di essere più facilmente eh affascinanti nei confronti delle masse che entravano per la prima volta nell'arena politica ma eh dopo che la democrazia ha ha sia pure in forme diverse nei diversi paesi un bel secolo di esperienze complicate eccetera diventa molto più eh differente e quindi eh credo che eh sì bisogna eh contestualizzare anche la discussione sul fascismo eh che c'è negli eh negli Stati Uniti eh perché eh io mi sentirei di dire no assolutamente non c'è la possibilità del fascismo negli Stati Uniti ma eh invece mi voglio rendere conto dell'utilità anche che quella discussione negli Stati Uniti sta eh avendo per riuscire a capire quella che è la loro esperienza. Grazie eh Marcello Flores. Professor Del Pero non deve limitarsi solo alla mia provocazione. No no ma io distinto la penso come Marcello ci aggiungo anche non sono un esperto di di fascismo come Marcello ma ci aggiungo anche una mia certa un certo fastidio verso le grossolanne diciamo così comparazioni diacroniche no e le presunte analogie lezioni della storia eh un corso che insegno che insegno qui a Siensepo per studenti non di storia ma delle relazioni internazionali ha tutta una parte sul cattivo uso delle delle analogie storiche e noto però che il dibattito è stato vivace anche intellettualmente vivace e ha coinvolto studiosi molto bravi che sono come sempre accade in queste circostanze divisi in due campi contrapposti e ci sono stati studiosi del fascismo e del totalitarismo penso a Timothy Snyder ad esempio che hanno preso delle posizioni forti eh denunciando l'autoritarismo di Trump e offrendo dei paralleli storici diciamo così con gli autoritarismi e i totalitarismi della storia in particolare modo del periodo eh interbellico in un dibattito che è stato come dire riacceso dai fatti del 6 gennaio tanto un altro storico del fascismo Robert Paxton che ha cambiato idea ha scritto un articolo dicendo perché lo possiamo chiamare fascismo la cosa interessante è che le critiche a questa lettura critiche che io trovo in sostanzialmente convincenti come storico sono venute spesso da storici di sinistra eh Samuel Moin, Corian Robin e altri che diciamo così eh eh hanno accusato una certo un certo mondo liberal al quale al quale si può includere anche Krugman hanno accusato questo mondo liberal di di esagerare la minaccia trampiana per minimizzare le falle e i problemi di sistema che hanno potuto generare tra io credo una cosa senza scivolare appunto sulle ardite comparazioni storiche è detto che invocare il fascismo per spiegare Trump a me istintivamente non convince e prova detta una cosa Trump ci mostra la fragilità della democrazia la democrazia è per definizione parziale incompiuta e in divenire ogni democrazia porta con sé dei difetti di origine che sono destinati ad accompagnarle in tutta la sua storia nel caso statunitense ovviamente il difetto d'origine più marcato che ha lasciato la ferita più profonda la questione razziale e ed è una democrazia quella americana io credo in sofferenza immagino su questo solo quella americana che è una sofferenza la quale semplifico molto per facilitare la discussione credo contribuisca una variabile di tipo politico interno e una variabile di contesto globale contesto globale è la fatica la difficoltà forse addirittura l'impossibilità di mettere in asse la democrazia americana con le richieste di sicurezza che i cittadini fanno ai loro decisori politici e sicurezza di protezione sociale e il funzionamento dell'economia globale qualcosa che la crisi del 2008 ha mostrato ed io credo l'ho anche argomentato che sotto l'ombra di quella crisi continuiamo per tanti aspetti a vivere e poi c'è un problema interno la democrazia americana con i suoi mille problemi è un presidenzialismo debole un sistema federale quindi con i poteri sono divisi spacchettati distribuiti su centri diversi che per funzionari a volte funziona molto male ha bisogna di mediazioni compromessi c'è una democrazia che la polarizzazione la delegittimazione reciproa che stiamo vedendo eh rende ancora più di cui il funzione rende ancora più difficile il funzionamento e io credo che trump sia il prodotto di questa doppia diciamo così di questo doppio elemento che indebolisce e rende più fragile la democrazia americana e che ci dice appunto le democrazie sono sono piante molto fragili che forse nell'entusiasmo post guerra fredda nell'entusiasmo della globalizzazione eh di cui abbiamo forse dimenticato appunto questa questa fragilità. Eh allora mi faccio brevemente portavoce di una domanda di un di un come si dice di un ascoltatore o come si dice quando è una cosa online? Di un lettore. Di un lettore. Di un lettore. Antonio De Cristofaro chiede a Giovanna poi farò una domanda eh che cosa sarebbe successo se gli elettori democratici se ho capito bene la sua domanda avessero reagito eh con altrettanta violenza come hanno fatto una parte gli elettori repubblicani al tempo dell'elezione di trump cioè il duemiladiciassette uno scenario diciamo controfattuale perché allora non successe invece la mia domanda eh che aggiungo rivolta poi a tutte e tre è questa finora abbiamo parlato tanto eh dei di cosa ha fatto di trump dei problemi di trump eccetera ma che cosa ha sbagliato eh eh il partito democratico e tutto quello che sta dietro al partito democratico cioè ehm diciamo eh la eh l'America delle due coste della East Coast e della West Coast delle grandi città eh che eh aveva eletto Obama che prima aveva eletto Clinton cioè che cosa ha sbagliato che cosa non ha percepito perché l'interesse credo del libro eh di Giovanna e di quella nostra discussione di oggi è dire eh non dipingiamo solo l'uomo nero ma cerchiamo di capire eh che cosa eh diciamo il partito chiamiamolo progressista con vecchio termine eh non ha percepito e non ha colto e ha sbagliato quindi questo andrei prima da Giovanna e poi dai nostri altri due ospiti ricordandole sempre la domanda del nostro lettore. Allora per quanto riguarda parto da quella che sono poi me la perdo per quanto riguarda diciamo il duemila e sedici beh io vorrei comunque precisare che non è che la maggior parte degli elettori di Trump hanno portato avanti il sei gennaio anzi insomma diciamo che è la stessa maggioranza dei elettori di Trump e si è poi espressa in modo contrario agli eventi del sei gennaio. Quelle del sei gennaio erano la pancia e la parte diciamo la parte più estrema del suo elettorato che però si è sentita particolarmente vogliamo galvanizzata proprio per quello che dicevamo prima cioè per questa mancanza di censura per queste continue carezze le definisco io che che Donald Trump da presidente ha dato a questi movimenti e eh ritornando se posso brevemente su questo anche rispetto a quanto diceva sul fascismo e sono assolutamente d'accordo che i paragoni siano eh impropri ehm e anzi eh quello che però secondo me gli americani stessi hanno capito dopo il sei gennaio e su cui forse hanno un po' più aperto gli occhi e noi invece in Europa non avevamo bisogno proprio perché noi abbiamo avuto dei movimenti liberticidi quindi abbiamo creato degli anticorpi a questa questione è l'utilizzo della propaganda ecco io credo che Trump sia da questo punto di vista stato veramente abilissimo sin dal suo primo discorso che infatti che ricordava prima Mario Del Piero e che poi proprio il prologo del mio libro insomma il suo primo discorso di insediamento dove non soltanto non pronuncia male la parola pubblicità ma non pronuncia neanche male la parola speranza no e poi convince a tutti convince diciamo chi lo ascolta e chi lo chi lo sente di tutta una serie di cose che non sono reali ma semplicemente per il fatto che vengono costantemente ripetute lo diventano questi sono stati quattro anni degli alternative facts dove la verità era come dire un optional ed è stato reso normale tutto questo anche grazie al loro utilizzo appunto dei social e della propaganda io credo che gli americani il 6 gennaio abbiano improvvisamente capito una cosa che noi in Europa invece beh forse abbiamo capito un po' prima proprio grazie a questi movimenti che abbiamo avuto al nostro interno e cioè che poi la propaganda nel momento in cui non viene arginata ok in alcun modo eh fa sì che c'è qualcuno che dalle parole può passare poi alle azioni e quindi questo se vogliamo secondo me è un po' è l'unico elemento che che io ritrovo eh di un tipo di 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 modo di governo di modo di porsi eh di fronte all'elettorato che può ricordare se vogliamo alcuni movimenti libertici dei europei per il resto sono proprio mondi diversi sicuramente Trump ha un leader che ha un che aveva una grande fascinazione per i momenti autoritari però sono d'accordo con Mario diciamo la democrazia americana è sicuramente ha mostrato tutte le sue fragilità però comunque è anche abbastanza solida poi per poter per fortuna alla fine per poter evitare insomma che che si vada al di là dei proclami almeno finora c'è riuscita l'ha dimostrato tra l'altro proprio su questo in questi ultimi giorni c'è un grande dibattito sui giornali americani su come ripensare il periodo che intercorre tra le elezioni e l'insediamento perché si è capito che non si può lasciare diciamo il presidente eh così senza nessun tipo di controllo e di limitazione dei suoi poteri no perché poi si può arrivare a situazione con il 6 gennaio senza avere il tempo di poterlo condannare eh perché evidentemente poi esce dalla casa bianca quindi si stanno iniziando a ripensare una serie di cose proprio grazie a questi soprattutto ultime settimane del mondo trampiano e democratici cosa hanno sbagliato beh hanno sbagliato tanto io diciamo nel libro lo faccio dire soprattutto agli elettori di trump perché insomma credo che sia quella la cosa fondamentale ascoltarlo dalla loro viva voce molto spesso attenzione anche lì appunto non ci rifiguriamo soltanto come gli sciamani del cantidoglio cioè parliamo di persone che molto spesso hanno votato per obama per due mandati quindi gente che che non ha eh questi tipi di divisioni completamente estremiste eh ma che si è sentita un po' abbandonata soprattutto dopo quella crisi del 2008 2009 che eh come spiegavate è è stata una un po' un turning point eh per quello che era io spiego nel libro cercando insomma di semplificare però questo credo che è l'impressione che ha avuto maggiormente quello che era il sogno americano che noi non dobbiamo figurarcelo come il grande successo ma il sogno americano dell'americano medio è comprarsi una casa pagare rate della macchina mandare i figli al college e si vive in un sistema che ti dice ti spiega che tutto eh ti dà la possibilità di farlo perché sei in America l'America ti dà se tu lavori se tu ti impegni ti dà questa possibilità e improvvisamente però dopo la crisi del 2008 2009 questo non era più possibile non era più così automatico e molte persone si sono ritrovate anche a vivere una sorta di umiliazione per non riuscire più a vivere quel sogno americano no per sentirsi un po' come tra i perdenti eh del sistema Trump invece è stato abilissimo su questo come proprio spiega nel primo capitolo in cui racconto il suo discorso di insediamento a ribaltare questa narrativa e a dire non è non siete voi eh che non riuscite a vivere il sogno americano perché non avete le capacità necessarie ma il sistema che ve lo impedisce è la palude sono gli immigrati sono insomma le regole che vogliamo e poi credo che appunto i democratici abbiano fatto l'errore di non ascoltare soprattutto questa parte di di America bianca ex middle class del Midwest che 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 e della Rust Belt che comunque aveva creduto anche in Obama molto spesso ma non aveva poi trovato le risposte necessarie e anche mh abbia sbagliato completamente candidato nel 2016 eh insomma questo credo che è agli occhi di tutti perché Hillary Clinton non era la persona giusta per poter parlare a quella parte d'America tanto è vero che una serie di stati così verimenti poi non è andata neanche a visitarli durante la sua campagna elettorale poi anche perché a volte gli elettori sono semplici anche questioni di empatia Hillary Clinton non riusciva cioè molti elettori repubblicani intervistati in quegli anni che la differenza rispetto a quelli di quest'anno che per Hillary Clinton avevano una specie di odio proprio non gliela potevi nominare che ti guardavano con gli occhi di poco per Biden no Biden non suscita questo tipo di di sentimento però Biden anche lui deve fare secondo me appunto molta attenzione perché lui ancora di più si troverà di fronte ad una crisi economica sociale fortissima a non eh diciamo cadere in quell'errore di ascoltare soltanto le parti veramente più fuori della popolazione e dimenticarsi un po' di chi sta nel mezzo che però poi si ritrova improvvisamente ad essere grazie alle diseguaglianze sempre più importante veramente ai margini e poi va a votare e un'ultima cosa qui chiudo non è un caso comunque che eh molti di quelle cioè l'elettorato di Trump come cerco di spiegare il libro è cambiato tra il 2016 e il 2020 quel tipo di elettorato di quell'America bianca che dicevamo che magari ha votato anche per domandati Obama delle da parte della classe operaia e così via in realtà l'ha un po' tradito l'ha un po' abbandonato rispetto al 2016 ha guadagnato altri tipi di elettorato ma quella parte un po' l'ha lasciato insomma a se stesso perché poi comunque non si è riconosciuta anche nelle sue politiche che come spiego nel libro anche prima della pandemia in realtà non avevano dato le risposte necessarie. Sarà una mia deformazione ma mi sembra che questo quadro degli errori dei democratici che tu hai fatto sembra molto gli errori del nostro centro-sinistra che ha lasciato eh regioni una volta operaie alla destra che ha lasciato i ceti medi insomma mi sembra che l'America non sia poi così lontana e chiederei adesso appunto un ultimo giro di se per te va bene Laura un ultimo giro di considerazioni al professor del Piero e al professor Floresta Arcais abbiamo ancora un cinque dieci minuti? Sì certo Allora no è che avremmo bisogno di un corso universitario per fare la conta degli errori dei democratici e dei problemi strutturali dell'America dentro le dinamiche di integrazione globale dell'ultimo mezzo secolo che l'America ha condotto ha guidato da quegli Stati Uniti hanno tratto molteplici vantaggi ma che pezzi di America non marginali hanno subito e dei quali sono stati vittime. C'è l'America industriale e post-industriale che fatica a reggere la competizione globale e che vede come dire trasferire la produzione industriale altrove cioè di localizzazione e ci sono che forse sottovalutiamo pezzi di America di piccola impresa di commercianti di contractors che semplicemente dentro la competizione globale non reggono. Amazon non fa chiudere i negozi solo in Italia. Pezzi di America insomma che dalla globalizzazione semplifico davvero tanto hanno preso una bella botta. Una botta a lungo compensata dalla possibilità crescente di accedere a consumi a debito che è il tratto caratterizzante il periodo che va diciamo così da inizio agli 80 fino alla crisi del 2008. I consumi a debito sono stati una sorta di fondamentale ammortizzatore sociale per contenere tutto ciò e per contenere o rendere tollerabili anche forme di disegualianza di reddito che sono tornate ad aprirsi. Una volta che quel meccanismo è saltato è rimasto il debito ma non c'è stata più la possibilità di consumare. Cos'hanno sbagliato i democratici hanno sbagliato tante cose ma un errore macroscopico è stato non utilizzare la possibilità di accedere a ingenti flussi di credito. Dentro queste dinamiche c'è anche la possibilità di rastrellare il credito a basso costo che ha caratterizzato un altro elemento che ha caratterizzato almeno il post il post guerra fredda per attutire l'urto di questa trasformazione per aiutare in processi di riqualificazione professionale per chi dentro la globalizzazione non poteva starci. E a un certo punto quando è saltato l'ammortizzatore sociale dei consumi a debito un pezzo d'America si è trovata scoperta e vulnerabile. Un ceto medio impoverito che troviamo anche in altri paesi e che tanto spiega credo delle sofferenze delle democrazie più avanzate e benestanti. Marcello Flores. Io concordo ovviamente con quello che è stato detto da Giovanna e da Mario anche perché sono molto più esperti di me. A me quello che ha colpito degli eh dei democratici americani è che eh forse in qualche modo non sono più riusciti a tenere insieme delle forze che sono state tradizionalmente proprie. In parte forse perché sono forze che si pongono in contrapposizione oggi. Dico in modo schematico e riduttivo. La eh e l'ONG dei diritti umani. Eh sono due mondi che in qualche modo hanno rappresentato sempre o sono stati rappresentati dai democratici e che adesso hanno seguito negli ultimi tempi della globalizzazione forse ancor più con questa pandemia delle eh dinamiche eh diverse conflittuali eh contraddittorie. Eh e quindi è un po' proprio l'incapacità di guardare il mondo che sta cambiando e continuare a pensare che i criteri con cui si eh ragionava, si analizzava ieri e l'altro ieri eh possano essere ancora quelli attuali e che da questo punto di vista è esattamente eh quello che eh dicevi tu Marco Vigevani cioè il centro-sinistra italiano eh continua a ragionare come se fosse negli anni novanta o negli anni settanta eh certamente non eh in questo nuovo secolo e con eh le sfide e i parametri che questo nuovo secolo sta ponendo. Eh allora cerchiamo di concludere con tutti e tre con una cosa magari non so se è più positiva o no. Allora ce la farà eh l'America che poi è il paese ancora eh leader del insomma del mondo libero diciamo lo usiamo ancora questa espressione perché non sarà certo la Cina che ci che ci guiderà eh nel mondo libero e nella Russia eh riuscirà a raggiungere quella more perfect union che insieme alla pursuit of happiness quindi la quell'unione più più completa eh che è nelle aspirazioni o rischierà eh di eh invece di andare verso una società sempre più divisiva e qui eh lascerei liberi tutti ordine alfabetico non ordine alfabetico chi vuole chi vuole rispondere a questa a questa a questa domanda o o o a un'idea su questa cosa. Facciamo un ordine alfabetico facciamo Mario prima. Così ho finito con la nota di ottimismo. Sì ma io posso posso fregarti facendo l'ottimista allora io credo eh io credo che l'America si trovi di fronte a dei problemi immensi e forse lo diceva Giovanna prima eh gli eccessi di Trump e l'assalto al capito l'hanno dato un po' di capitale politico aggiuntivo a Biden che deve utilizzare e utilizzare in fretta credo lo stia già facendo eh per dare delle risposte delle risposte forti su un tema la sicurezza sociale la protezione sociale che vada da dalla sanità al sostegno all'occupazione al salario minimo eh eh su temi che paradossalmente sono trasversali possono essere trasversali nel senso che poi gli elettori di destra come di sinistra li chiedono li chiedono eh però deve fare molto in fretta e in un paese così diviso così polarizzato a ciclo elettorale permanente perché siamo già in campagna elettorale per il midterm 2022 è molto molto difficile. Ma eh negli Stati Uniti la divisione contrapposizione tra le due Americhe come avete voluto chiamare poi eh questo incontro c'è sempre stata nella storia cioè noi abbiamo un eh ripetersi di momenti conflittuali e acuti e quello più acuto ovviamente è stato quello della eh della guerra civile eh con Trump possiamo dire che si è arrivati a una sorta di guerra civile culturale eh per certi aspetti e di valori eh però ogni volta dopo questi momenti più acuti eh c'è stata quasi fisiologicamente eh la eh richiesta forse come eh suggeriva Giovanna o comunque la necessità di arrivare invece a eh una eh maggiore maggiore moderazione. Eh pensiamo che negli anni trenta anche eh gli Stati Uniti erano ben eh ben divisi al loro interno e c'erano forse nazionaliste eh nazionaliste eh sovraniste eh parafasciste che eh è soltanto la guerra poi che ha ha fatto scomparire eh del tutto eh e rinascere in una forma diversa unitaria poi nel dopoguerra negli anni eh cinquanta o negli anni del eh del maccartismo. Quindi eh credo che eh sicuramente Biden potrà eh se non commetterà eh troppi errori godere di questo vantaggio eh del riflusso delle contrapposizioni forti che nella società americana eh esistono ma che poi sono seguite anche da momenti in qualche modo di volontà. Allora no io appunto cerco di chiudere con una nota di di ottimismo perché appunto ormai questo mi contraddistingui quindi se devo dirlo mh ho fiducia ma anche perché in questi anni diciamo nel mio libro ho cercato di soprattutto di analizzare anche perché sono io stessa andata a scoprirlo un'America che magari si conosce anche meno eh in Italia e un'Europa un'America anche appunto dove dove era cresciuto se vogliamo il cuore dell'elettorato eh trampiano però l'America rimane anche tanto altro no? Io mh questo paese che comunque riesce ad essere eh in qualche modo il faro eh sia per quanto riguarda l'innovazione, l'avanzamento e in qualche modo anche la capacità di ammettere i propri errori, di tendere sempre ad un miglioramento continua a vederlo quindi ho l'idea che che questo paese abbia dentro di sé proprio come dire i fondamenti per riuscire a ad uscire anche da questo momento di difficoltà di entrare negli insegnamenti giusti eh Amanda Gorman che è la bravissima e bellissima poetessa ventiduenne che ha diciamo partecipato all'inauguration eh di Baden nella sua poesia dice eh la nostra nazione non è rotta è soltanto incompiuta quindi c'è in qualche modo eh questa consapevolezza di di dover trovare un modo per andare avanti che deve passare per cosa? Anzitutto per una riduzione delle diseguaglianze. Io credo che una delle cose che mi fa essere un po' ottimista su Biden è proprio il fatto che lui stia dedicando alla questione del di questo gap enorme che si è ulteriormente ampliato in questi ultimi quattro anni tra la parte più ricca e più povera della popolazione. Ecco lui sta dedicando una grande attenzione a questa problematica molto più di quanto era stato fatto eh in passato anche dalla stessa Clinton quando si candidò. Lui invece ha veramente un focus su questo. Io credo che questa sia una delle chiavi di volta necessarie per riuscire a ritrovare uno spirito di unità che non vuol dire uguaglianza in tutto e per tutto. La cosa bella dell'America è proprio la sua enorme diversità. L'unione nella diversità e credo che ehm ci sia una volontà in questo momento dopo questi quattro anni così corrosivi e come ricordava anche Mario fosse un maggiore capitale politico per provare ad andare verso quella strada. Poi che ci sia un risultato di successo o meno sta tutto da vedere se fosse un film hollywoodiano sicuramente sì. Quindi gli americani che ne vincono. Laura a te come nostra ospite il l'onere e l'onore di chiudere. Sì sì chiudo naturalmente eh ringraziando moltissimo i nostri ospiti per questo dibattito così mh intenso e e di 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 altissima qualità se posso dire eh vorrei solo fare un piccolo annuncio rispetto al prossimo incontro del circolo dei lettori e riprendere dal 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 film hollywoodiano eh passare alle alle serie televisive in questo senso e quindi passare dalla dall'America all'Inghilterra. Il prossimo incontro del circolo dei lettori sarà dedicato a una tendenza chiamiamola così mainstream ehm che è quella che eh vuole un interesse sempre maggiore per eh la storia inglese sotto forma della storia dei ehm dei regnanti dei re inglesi dalle e questa cosa si si come dire si verifica sia in letteratura eh ponendo anche un tema che credo possa essere interessante vale a dire come si può raccontare la storia romanzescamente e quindi questo è il motivo per cui ci sarà Alison Ware ehm sarà nostra ospite che è una scrittrice inglese che sta raccontando in eh romanzescamente in tomi di cinquecento pagine l'uno eh dedicato ognuno a una moglie di Enrico VIII eh Jane Seymour, Anna Volena, eh Caterina d'Aragona eh fino a esaurimento mogli mi verrebbe da dire e quindi la 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 intervisterà e e e ci racconterà appunto le le modalità per scrivere romanzescamente la storia eh Masolino d'Amico e poi parleremo anche naturalmente di The Crown eh eh i Bridgerton cioè di quelle serie televisive eh che hanno successo eh certo non quanto i libri perché lo strumento eh è diverso e e il titolo sarà appunto eh dalle otto mogli dalle sei mogli di Enrico dalle moglie di Enrico VIII ho esagerato nel nel numero dalle mogli di Enrico VIII eh a The Crown e i Bridgerton eh tutti pazzi per la storia inglese questo è eh il titolo del prossimo libro dei del prossimo incontro del circolo ci sarà anche Enrica Raddolo esperta in case regnanti contemporanei quindi come dire come la storia poi finisce anche nel nella cronaca nella cronaca mondana quindi ringrazio ancora una volta davvero molto molto calorosamente i nostri ospiti Marcello Flores Maria del Pero Giovanna Pancheri ancora molti complimenti per il libro grazie a Marco per la eh eccellente conduzione della serata e ringrazio i nostri ospiti i nostri lettori e vi do appuntamento al prossimo incontro del circolo grazie moltissime grazie a voi grazie 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 al circolo grazie a voi grazie a voi grazie